Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigi Juve, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti, partiamo ragazzi con una notizia molto molto forte, perché mentre tutta la magistratura italiana fa necchia, fa finta che niente sia successo nel caso Inter Oc3, dove ragazzi lo scenario si arricchisce di episodi sempre più gravi, non ultimo la scoperta di una multiproprietà, come detto col presidente Giulini, presidente del Cagliari, che aveva una compartecipazione nell'Inter che configurerebbe una doppia Serie B per i due club, andando a finire nelle falsificazioni in bilancio con delle sponsorizzazioni fitizie, come abbiamo visto per la pinetina che diventa un caso incredibile, naturalmente ragazzi la magistratura sia ordinaria, sia sportiva, con il buon Don Peppino Chine, fanno finta di niente, niente si muove, al momento tutto è bloccato, quindi aspettando che qualcuno parta, cerca di dargli un input, cerca di donare tregua, cerca di tenere vivo il caso Identità Bianconera, con un nuovo esposto, un nuovo esposto ai danni dell'Inter, di nuovo ragazzi, Identità Bianconera, la fondazione di avvocati a difesa della Juventus parte all'attacco nei confronti dei prescritti cartonati, ne parliamo insieme in questo video, ma prima di tutto ragazzi, un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis ragazzi, è a voi, non costa nulla, ma è importantissima l'iscrizione per aumentare il numero di visualizzazioni e quindi far sentire la nostra, che è praticamente una nostra controinformazione rispetto all'informazione ordinaria che è quella che fanno loro, che è quella che nasconde tutta la reale verità, quindi ragazzi iscrivetevi e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale e se ne avete piacere ragazzi, cercate di iscrivervi anche alla fondazione Identità Bianconera perché sono davvero meritevoli ragazzi, meritevoli del nostro appoggio perché stanno facendo tanto, stanno facendo molto molto di più della Juventus, molto molto di più dei magistrati ordinari e ci stanno dando una grande mano in questa battaglia che ragazzi altrimenti sarebbe davvero senza giri di parole una battaglia già persa. Ma passiamo al contenuto del video e cerchiamo di capire che cosa Identità Bianconera va a chiedere di nuovo alle procure, va di nuovo a chiedere alle procure ordinari, va di nuovo a chiedere a Covizoc, FGC e quindi alla giustizia sportiva. Praticamente ragazzi chiede l'accesso agli atti in modo da conoscere i dettagli del passaggio tra l'Inter e Doc 3 perché ragazzi questo passaggio che ha dei contorni sempre più oscuri è giusto che appunto su questi passaggi venga fatta luce, vengano verificati tutti i dettagli perché ragazzi andiamo per esempio solo a pensare al caso di Lion Rock, quanti punti oscuri ci sono in quella vicenda, quanto avete capito di praticamente un contenitor, o chiamatelo di più col suo vero nome, una scatola cinese con praticamente sede alle Kaiman, proprietaria appunto di cui è proprietaria la famiglia Zhang che praticamente è però una scatola vuota perché negli ultimi giorni aveva trasferito la proprietà ad un'altra società, ragazzi un casino mai visto, tra l'altro pagata 150 milioni dai Zhang è data impegno come fosse. Carta straccia ragazzi, carta straccia così come è stato dato dato impegno all'Inter perché ragazzi tutti vogliono far passare questo passaggio come un semplice passaggio di proprietà, come una compravendita. Acquirente, venditore, scambio. E no, e no, è un pignoramento, è un'esecuzione forzosa dovuta al fatto che Zhang fosse insolvente, poi può fare tutte le lettere che vuole, dove dice tutte le cretinate che vuole, ma il fatto sta nel problema che Zhang non paga nessuno, non ha pagato nessuno ed è uno pieno di debiti in Cina quanto in Italia, tanto è vero che molto probabilmente adesso, dopo ragazzi che gli interisti lo hanno abbandonato, così come i media e la sua comfort zone, si viene a sapere che molto probabilmente non ha la libertà di uscire dalla Cina. Bravi, bravi, complimenti, ce lo venite a dire adesso, lo stiamo dicendo da settembre, perché uno che ha sempre fatto la svolta tra Milano e Nanchino avanti e indietro da un anno non esce dalla Cina e poi noi siamo tutti babbalucchi, siamo tutti quanti con la boccola al naso ad aspettare voi che ci prendete per il culo. Ragazzi, ma voi davvero pensate di avere a che fare con una banda di imbecilli? Le persone non sono più le stesse dell'epoca di Calciopoli che si fidano dei media, oggi ci sono i social, oggi c'è, ci sono tanti youtuber che come me cercano di fare controinformazione, di leggere tra le righe e di portare le notizie, quelle vere a galla, con l'aiuto di utenti come voi che siete qui a guardare questo video, che condividete questo video, che lo condividete con i vostri conoscenti, che parlate di questo al bar, ragazzi, siamo in tanti adesso a conoscere la verità, siamo in tanti a diffondere quella che è la verità, non le cazzate dei media, le cretinate, e ci vogliono far passare quelli di Oc3 con la bandiera dell'Inter in mano pronti a tifare la cartorense perché nel cuore avevano sempre avuto un cartone lì a Los Angeles, lì ad Oc3 in California, ma non è così ragazzi, non è così, Oc3 ha preso l'Inter suo malgrado, Oc3 non aveva alcuna voglia di prendere l'Inter, Oc3 è stato costretto a prendere l'Inter dal fatto che Zhang non avesse un euro e le soluzioni che andava a trovare erano soluzioni praticamente ridicole, soluzioni a cui nessuno avrebbe potuto prestare davvero attenzione perché poi nel momento in cui si andava a fare una due diligence, quindi a vedere cosa stava succedendo all'interno di questa società si capiva tutto lo schifo, ma soprattutto ragazzi, soprattutto adesso che è stata approvata questa authority che va a guardare i conti, io spero che possa andare indietro, spero che possa andare indietro nel tempo perché l'Inter è dal 2020, ve lo dico io, che è una società che non ha i requisiti per iscriversi al campionato, l'Inter dal 2020 sta barando, barando, mettendo sul piatto soldi che non esistono, mettendo sul piatto documenti che non esistono, mettendo a bilancio cose false, cose che non sono reali e sono certo e convinto che se ci fosse stata una magistratura sportiva degna di questo nome, con gli attributi grossi così, con la voglia di andare a fare luce e chiarezza, l'Inter sarebbe stata cancellata dal campionato d'anni, invece no ragazzi, l'Inter fa mercato, l'Inter fa anche un mercato in cui con gli imbrogli del caso Mulattieri, Frattesi, le cazzate, Pinamonti avanti e indietro dal Genova, poi al Sassuolo, con ragazzi, ma voi ve le dimenticate le cose perché purtroppo tanti di voi, hanno memoria corta, ma voi ve lo ricordate Casadei che volevano scambiare col Torino a 5 milioni per avere in cambio Bremer? Una settimana dopo viene girato al Chelsea per 20 milioni per ottenere il prestito di Lukaku che è il Chelsea, non voleva assolutamente e Casadei colleziona 0, 0, 0 presenze nella sua prima stagione in Premier League, il fenomeno Casadei, ragazzi ne hanno combinate così talmente tante in questi 3, 4 anni che davvero si fa una gran difficoltà a starci dietro e a ricordarle tutte, ma noi siamo qua, siamo qua per condividere cose che rimangono poi indelebili sul web perché il web non dimentica, la nostra mente sì, ma il web registra e archivia tutto, quindi non dimentica, quindi massima condivisione di questo video, ancora una volta vi chiedo un commento perché il vostro parere è come al solito fondamentale per sgominare questa banda di criminali che come la piovra attanaglia il calcio italiano e soprattutto ragazzi, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine contro tutte e tutti, sempre e comunque, forza Juventus, grazie, fondazione, identità bianconera ed Inter, sempre e comunque, Inter merda